Decessi contagiati da coronavirus in aumento nella nostra regione, con casi che si registrano macchia di leopardo sul territorio. Salgono infatti con oggi a quota 30 le vittime in Friuli Venezia Giulia. I morti, 8 in più di ieri, avevano tutti pluripatologie. Tra questi c'è una 84enne di Monfalcone e un ospite della casa di riposo Rovere Bianchi di Mortegliano. In questa struttura risultano quindi complessivamente 7 le vittime del Covid-19. I casi di positività in regione sono invece 394, con 28 pazienti curati nei reparti di terapia intensiva, di cui 5 provenienti dalla Lombardia. Questo è il bilancio tracciato dalla regione attraverso il vice governatore Riccardo Riccardi, impegnato a seguire la gestione dell'emergenza dalla sede della protezione civile di Palmanova. I tamponi effettuati complessivamente dal sistema sanitario regionale sono stati 5.220. I ricoverati sono 104, mentre le persone in isolamento domiciliare 222. Di fatto il virus si sta espandendo in ordine sparso sul territorio regionale. Oggi sono stati segnalati 4 casi a Gemona, 3 a Pavia di Udine, altrettanti a Usoppo e Premariacco, un caso ad Artegna, a Sappada e a Marano Lagunare. Grazie.